ma con il fatto che a lei abbia avvitato viene comunque riconosciuto teso con una penalità ovviamente di posizione del corpo siamo alle parallele con Lorenzo Boriceno contro Kip con mezzo giro recuperata con un colpo di petto non era riuscito a raggiungere la verticale nel migliore dei modi è stato abile nel camuffare l'errore ancora una piccola imprecessione su questa contro Kip apre la schiena, passetto ma anche qui recupera bene in gran volta speriamo che con l'avanzare dell'esercizio non paghi il costo energetico di questi recuperi Tipelt, bravo Ili Dai su peccato davvero per questa imprecisione una volta che aveva quasi raggiunto la verticale Diamito fa che qui due passetti dietro fronte, Saltellino e doppio carpio un esercizio soffertissimo per Lorenzo Boriceno un'entrata in gara non delle migliori non sicuramente quella che sperava Ed è pronto a iniziare eccolo qui Lorenzo Bonicelli alla sbarra per la Ghislanzoni Gall mi sa che è caduto e sta ricominciando ah ok direi di sì perché la salita in capovolta non è certo una salita per iniziare l'esercizio Kaciov teso ampissimo Kaciov divaricato gran volta con mezzo giro e Zulimin una gran volta su un braccio e un giro infilata Adler alla verticale valore C gran volta cubitale valore B salto di mani gran volta di dorso con mezzo giro e ora uno Stalder divaricato si appresta alla fase finale gran volta di passaggio caricamento doppio teso con un avvitamento e arrivo stoppato grazie a tutti